No raga, voi non potete capire. Stavo iniziando a registrare, sono qua in mezzo a un parco, sento dei rumori qua alla mia sinistra, mi giro e tipo è uscita una lepre dal bosco. E super super tranquilla, mi è venuta attorno, mi ha annusato, poi è partita e andata verso di là. Vi carico qua due foto mentre si allontanava perché avevo paura di muovermi che si spaventasse, no la volevo spaventare. Cioè, era stupenda. Sembrava molto zen sotto steroidi eh. Ok, saluti ragazzi, benvenuti in questo video, spero vi ricordate di me. Io sono Pixel Pax e ormai è già quasi da più di un mese che non faccio video. Oggi vi spiego cosa è successo, tutto quello che c'è stato in mezzo, perché avevo detto l'ultimo video che mi sarei preso una pausa e adesso sono tornato. Detto questo, vi ha con la sigla! Oh, buongiorno a tutti e bentornati! Allora, partiamo già dal dirvi che ogni giovedì alle 14 uscirà un nuovo video. Adesso manteniamo la programmazione, non ho grossi impegni, quindi riusciamo a mantenerla almeno per un po'. Poi, altra cosuccia. Per tutti coloro che stanno vedendo questo video e che non sono ancora iscritti al nostro Megapixel, vi invito a iscrivervi. YouTube mi ha notificato che il più del 90% delle persone che si guardano i miei video non sono iscritte al canale, quindi per favore iscrivetevi così da supportarmi, da farmi crescere e da farmi portare sempre nuovi video qua sopra. Oggi vi racconto un po' cosa c'è stato nei mesi scorsi, in tutto quello che mi è successo. Facciamo un bel recap e poi dopo vi do un paio di novità per quanto riguarda un 8 Megapixel, perché vi ho portato qualche chicca succosissima. Ok, allora, l'ultimo video che è uscito, lo avevo registrato verso fine dicembre e inizio gennaio. Dopodiché io ho dato gli ultimi esami, sono andati bene, mi mancano due esami alla laurea, finalmente. Poi c'è da scrivere la tesi che non l'ho ancora iniziato a scrivere, ma dettagli. E poi dopo ho iniziato il tirocinio. Il tirocinio è durato un mese, l'ho fatto presso un nido, quindi struttura bambini 0-3 anni. Stupendo, mi sono divertito un sacco. Non vi posso raccontare nulla per questioni di privacy, ovviamente, però sappiate che è stata veramente una bella esperienza e sono contento della carriera universitaria che sto seguendo. Ok, finito vita privata di Pixel che fa cose. Un po' di novità per quanto riguarda questo nuovo inizio, questo 2021. Allora, numero uno, ho preso un drone che si andrà ad affiancare a tutta la mia attrezzatura. Vedete presto qui sul canale un video. Chi mi segue sui social probabilmente li ha già visti e vi invito a seguirmi. Tutti i link qui sono in descrizione. Poi, numero due, ho rinnovato camera mia. Anche qua vedrete un nuovo video. L'ho resa finalmente comandabile da Alexa in modo serio, quindi anche cambiare colore e tutto il resto. L'ho un pochino rigirata così da avere più postazioni per i video, per filmare, per montare anche. E soprattutto, finalmente, potremo avere uno sfondo per quando sono in casa, illuminata LED, quindi comunque potrò cambiare il colore e tutto il resto. Poi, altra novità. Ho iniziato a collaborare con un gruppo che tratta animali, l'ho fondato io. Si chiama su Facebook Criciti 2.0 e Affini e anche su Telegram abbiamo il canale dove parliamo e ci si scambia consigli su animali esotici e non. Siete tutti benvenuti se volete entrare e cercateci e il link lo trovate. Con questo gruppo stiamo anche pensando di ampliare le cose. E infatti ho proposto di caricare, di registrare e caricare dei video dedicati agli animali qua sul canale. Perché comunque ho visto che vi piacciono e fanno comunque un discreto numero di visual, quindi penso siano apprezzati dalla maggior parte di voi, sia iscritti che non. Quindi inizieremo da adesso in poi a fare dei Q&A oppure video dedicati anche agli animali, non più soltanto a viaggi e robe varie. Quindi se vedete più video sugli animali sapete il perché. Questo vuol dire che non è che diventerà soltanto un canale dedicato agli animali, capitemi bene, sarà un'aggiunta. Come ho già le varie rubriche su Pixel Fa Cose, le recensioni, Pixel Talk About, video di viaggi, avremo anche... Pixel Urbex, troppo in entesi, arriveranno delle esplorazioni se tutto va bene che... Avremo anche delle rubriche dedicate appunto agli animali. Non soltanto quelli che ho io, quindi non soltanto conigli e cricetti, ma magari anche altri animali sui quali potrei fare delle collaborazioni. Ok, video abbastanza breve, non ho tante cose da dirvi. Vi dico soltanto che per questa nuova stagione, periodo di 1,8 megapixel, ho già in mente un bel po' di video veramente, veramente interessanti. Ogni giovedì uscirà un nuovo video alle 14, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social. Probabilmente tornerò anche su Twitch a fare qualche live, oppure le farò qua io su YouTube, in ogni caso vi avviso su Instagram, quindi seguitemi lì. Detto questo, per finire, postate in descrizione come al solito trovate i link per tutti i miei social, seguitemi, e anche un link per supportare il canale. Con il prato simbolico di 1 euro potete supportare un 8 megapixel e tutti i soldi che riceverò dalle donazioni li utilizzerò per migliorare la qualità e le cose da fare qua sul canale. Detto questo, io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!